Buongiorno, oggi è giovedì 30 giugno, la segna stampa in breve di Video33, nuovo appuntamento con la nostra informazione, cielo nuvoloso su gran parte del territorio altootesino, variabilità che ci accompagnerà per gran parte di questa giornata, non si escludono precipitazioni, flessione dei valori massimi. In regia abbiamo Massimo Moro con il suo aiuto, diamo un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo oggi in Edicola, l'Alto Adige, marito e moglie morti in moto, i meranesi Corrad, Spinell e Monica Maier si schiantano a Mantova, rifiuti che è stangata per pizzerie e cliniche, sconti per le banche, per i grandi magazzini rincari fino al 175%, nazionale su tirolese, si ha la mozione, vota anche la SVP, muore travolto dal trattore a Nova Ponente, era allenatore di Slettino, la cronaca nera, la cronaca nera, la vittima aveva 71 anni, si fanno il selfie, presi 10 ladri d'appartamento, tutto questo in bassa tesina, e poi Alperi accede e versa alle città il tesoretto. La cronaca cura del Corriere dell'Alto Adige, Mantova muore coppia di meranesi con lo scooter contro un'automobile, Azz, Azz, l'ex assessore comunale, patteggia 16 mesi, bancarotta fraudolenta, il PM dice sparirono dei fondi, Casa Pound, volantinaggio contestato, offese alla Thun, Casa Pound in tribunale. E ancora con la cronaca, la cronaca lingua tedesca, il Dolomiten dedica spazio alla cronaca nera, con la tragedia che si è consumata a Mantova, la morte, la morte del famoso Cuoco Spinelli insieme alla moglie e poi la tragedia di Nova Ponente con il 71enne che ha perso la vita a bordo del suo trattore. Sempre per la cronaca lingua tedesca, il quotidiano Tagess, Zaitung, le tasse che i politici dovrebbero pagare sulle pensioni con le nuove regole, si cerca una soluzione per ridurre la pressione fiscale. Oggi giovedì troviamo un'indicola del settimanale FF, l'approfondimento interno, la copertina dedicata al presunto caso di doping che vede coinvolto Alex Schwarzer. Come ogni giovedì vi proponiamo anche il settimanale Diocesano il Segno che dedica l'apertura e l'approfondimento interno all'ordinazione di due nuovi sacerdoti. È tutto, io vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di video 33.